Vado al Festival Bar con Polvere e incontro Ivano Fossati che cantava una bellissima canzone che era la musica che gira intorno quella che non ha futuro saremo noi quindi viene e mi fa i complimenti per Polvere e io ovviamente felicissimo perché ripeto io ero un ragazzino Fossati era Fossati e mi dice guarda io sto lavorando all'album di Loredana Bertè per caso hai delle canzoni da farmi sentire io gli ho fatto sentire un po' di canzoni e quando è arrivata al mare d'inverno gli ho detto alt fermi questa andrebbe figa io tipo sei libero domani fammi guardare l'agenda sì e quindi ovviamente ho detto di sì e ne fecero il singolo lei ne fece un video bellissimo con i capelli al vento e quindi insomma la cosa andò bene perché l'ho incisa qualche mese dopo avete capito quanti racconti ci sono dietro una canzone che a noi arriva tra virgolette il prodotto finito ma dietro ci sono dei racconti degli aneddoti bellissimi